Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 17 maggio, siamo a Lecce e il tempo oggi è un po' così così, però insomma meglio del tempaccio che abbiamo lasciato a Roma. Il tema fondamentale della giornata sono ovviamente quello che potremmo definire l'attacco a Salvini, che poi ci sia un complotto o non ci sia un complotto, poco importa, però insomma ci sono tutta una serie di notizie che mi fanno, come posso dire, mi fanno ricordare i migliori anni contro Berlusconi, i migliori a seconda dei punti di vista ovviamente, che sono quelli di Repubblica, del Corriere della Sera, che chi per un verso, chi per l'altro dava cazzottoni da destra a sinistra, perché i migliori anni di Salvini mi ricordano quelli di Berlusconi? Perché oggi ci sono due cose coincidenti, la prima che dopo un'inchiestina della Repubblica sui voli fatti da Salvini in giro per l'Italia con l'aereo blu, oggi c'è un'inchiesta della Corte dei Conti, ci sono i 43 voli, bene 43 voli, 19 soltanto di questi 43 sono chiaramente diciamo non all'estero, in Egitto, in Austria, sono chiaramente in Italia e potrebbero essere avere anche, come posso dire, un connotato sempre di lavoro ma non necessariamente istituzionale. Insomma, io devo dire la verità che mi sembra una delle polemiche più ridicole del mondo, però io voglio anche ricordarvi che questo è il paese che invece di criticare Renzi per le sue politiche, per le sue follie, per le sue nomine assurde, l'ha criticato, vi ricorderete, sull'Air Force Renzi, sull'aereo, una cagata sicuramente, ma comunque che aveva un senso, perché non riesco a capire per quale motivo al mondo un paese importante come l'Italia non debba avere una flotta di aerei presidenziali al livello. Che quello fosse sbagliato non lo so, non voglio giudicare, ma in realtà noi paghiamo, facciamo 850 miliardi di Euro di spesa pubblica, penso la Camera costa un miliardo, il Senato costa un miliardo, magari abolirlo, ecco appunto, gli organi costituzionali costano moltissimo che i nostri Ministri degli Interni, ma anche Di Maio, possono viaggiare con degli aerei di Stato, mi sembra il minimo e che avviene in qualsiasi paese democratico, non soltanto in Italia. Buongiorno a Paola da Lucerna, vedo, anche Ada e Carmine. Quindi insomma, vogliamo fare la polemica con i voli di Stato? Facciamola, però ricordatevi che, lo ricordo soprattutto, io la penso come voi cari amici leghisti, che mi sembra completamente basata sul nulla, ricordatevi che le stesse polemiche le abbiamo fatte con tutti i politici della Prima Repubblica e forse qualcuno di voi, quando si sposa con il Movimento 5 Stelle, sa di fronte a quel tipo di moralismo assurdo e istituzionale si arriva. Tra l'altro il giornale oggi è molto divertente perché dice che anche Di Maio viaggia altrettanto e siccome non viaggia in autobus, cioè non fa come Fico che ha fatto il primo giorno il suo viaggetto in autobus per andare al Senato, ve lo ricorderete, viaggiano tutti con le auto blu oppure come quella della Raggi che è diventata bianca con il suo guardaspalle che ci fa così, tutti hanno le scorte, le macchine bianche, blu, eccetera. Allora io vi voglio segnalare semplicemente quello che diceva il giornale, molto divertito, che Di Maio viaggia anch'esso in aereo, però in quel caso gli aerei delineasi li fa rimborsare, sempre da noi, non è che paga lui di sua spontanea volontà. Ma io trovo talmente ridicola questa polemica su Salvini che non vorrei offuscare invece il tema fondamentale, cioè che improvvisamente stiamo diventando il paese più corrotto del mondo, lo siamo sempre stato, ma improvvisamente Legnano, gli arresti del sindaco e poi un arresto come dice giustamente molto bene oggi sul foglio Cerasa di Tatarella, candidato alle europee di Forza Italia e di Altitonante, la cui inchiesta è stata chiusa tre mesi fa, cioè chiudono l'inchiesta il 27 febbraio come nota Cerasa e lo arrestano dieci giorni prima della fine della campagna elettorale, arrestano soltanto gente per il momento, diciamo questa tangentopoli di Milano, ha delle dimensioni ridicole perché poi bisogna farle le inchieste e soprattutto questo sindaco di Legnano sapete perché cosa è stato arrestato? Perché avrebbe fatto sì che venisse nominato qualcuno per suoi tornaconti elettorali, non soldi, tornaconti elettorali, vale tutto, vale tutto, quelli che godono sulle manette, mettetevi voi ad amministrare qualche cosa e vedrete che i criteri oggettivi quando amministrate non saranno mai oggettivi, i vostri amici non dovrebbero essere mai nominati, quelli che hanno un'impresa non possono far nulla, cioè dovete trovare delle specie di barboni che non conoscete e piazzarli nei posti che in quel momento la pubblica amministrazione vi permette di andare. Io trovo fantastica questa storia del moralismo all'italiana, io non so se questa cosa contro Salvini e contro il centrodestra poi avrà l'effetto nei sondaggi che qualcuno già inizia a vedere, però devo dire la verità che agli amici leghisti io vorrei dire ve la siete cercata, sì ve la siete cercata perché con questi del Movimento 5 Stelle ve la state cercando, il loro DNA è quello, non hanno mai nascosto che era esattamente quello che loro pensano della politica, no aerei di Stato, sì sull'autobus, poi lo usano, no ovviamente, no a garantismo, sì al fatto che non si può e non si deve nominare nessuno che abbia avuto nella vita qualche cosa da fare prima perché ovviamente tutto in conflitto di interessi, poi se andate a vedere i segretari di questi signori di 25-30 anni che diventano ministri sono il loro compagno al bar, il loro amichetto alla scuola elementare, la segretaria del meet up, ovviamente generazionalmente gente che non ha mai fatto nulla nella vita, non dico nulla contro di loro, ma la loro cricca è di persone che non possono essere in conflitto di interessi semplicemente che non hanno avuto nessun interesse se non quello qualche volta di studiare o qualche volta di cazzeggiare come si fa a fine 25-30 anni, cosa che abbiamo fatto tutti quanti noi, per carità, quindi tutte queste inchieste, in realtà come sintetizza bene il titolo del manifesto, duces in fondo, con la foto del truce Salvini, cioè il duce sarebbe in fondo, stanno attaccandolo, financo il manifesto se ne accorge, anche se ovviamente con una connotazione negativa, per la verità vogliono abbattere Salvini, è il titolo della verità, un furbetto dei cieli, questa è la tesi ormai che va avanti su Repubblica, il furbetto dei cieli insieme a un partito marcio, è quello che invece dice Repubblica, che come nota giustamente oggi un pezzo del giornale, sta diventando e sta cercando di infilarsi e fare una crepa tra il Movimento 5 Stelle, che vorrebbero vicino al PD, tesi, travaglio, campagna elettorale, e la Lega che deve andare a scomparire perché è la Lega sporca, zozzona, di destra, neofascista. Di Maio ovviamente si presta a questo gioco, anche perché per i termini elettorali ha capito che gli rende, dice sul fatto che sarebbe un problema se queste inchieste salessero più in alto, quindi si evoca il terzo livello, come si evocava per la mafia a Roma l'antianderottismo, in perfetto stile garantista, non garantista, ironico, Di Maio è, però potrebbero arrivare in alto, sarebbe un problema se arrivassero in alto, quasi se lo augura, cioè una cosa stupenda, Salvatore De Vito Porro sei ipocrita, pidiota, beh è straordinario, sei ipocrita, pidiota sono diventato, già la parola pidiota mi furta un po' i nervi, ma l'ipocrita è stupendo. L'operazione del sindaco e lo sfotto molto cerasa di Legnano si chiama Piazza Pulita, tanto per dare il senso mediatico di quello che stanno cercando di ottenere questi signori giustizia o visibilità. Bene, è fantastica la differenza tra il fatto e il giornale su quello che è avvenuto dopo la protesta, secondo me è scandalosa nei confronti dei Roma, scandalosa nei termini, non nei principi se volete, cioè quando una signora con un bambino entra in una casa assegnata dal comune non gli dici ti stupro, non usi violenza nei suoi confronti, non è questo il sistema. Beh, la cosa scaldalosa è che il fatto dice informativa dei carabinieri per le manifestazioni degli antagonisti, care alla destra queste informative, care a Salvini, mentre invece si scopre cosa è successo in quelle manifestazioni anti-Roma, e cioè che sono stati indagati 64 attivisti di casa Pound, lo leggi su tutti i giornali, tranne che sul prima pagina del fatto, che nella sua, diciamo, desiderio antisalvinista mette in conto a Salvini anche una specie di immunità nei confronti di casa Pound, che invece non ci sarebbe nei confronti della sinistra. Follia, fake news totale, anche se avviene sui giornali. Prima pagina del fatto, prima pagina di tutti gli altri giornali, vedete la differenza tra l'uno e gli altri. L'assalto nero ai Rom, questo è il titolo del fatto, una roba del tutto falsa. Sono stati condannati, per farvi darvi qualche dettaglio in più, sono stati anche indagati quelli di casa Pound, e non solo loro, per rapina, perché vi ricorderete quel momento in cui rubarono i panini, li gettarono a terra e li pestarono, bruttissimo gesto ovviamente, beh, sono indagati per rapina. A me va tutto bene, indagateli per rapina, frustateli, uccideteli, fate quello che vi pare. Spero che non si offendino come altre categorie, soltanto perché io quando parlo qua mi prendono un po' tutti sul serio, non voglio che si uccidano. Però, diciamo, fate di quello che volete a questi di casa Pound. Ma mi chiedo, ma lo stesso atteggiamento di rapina, distruzione, indagini si hanno quando vengono messe a ferro e fuoco le nostre città per l'arrivo dei centri sociali, dei collettivi di sinistra? 64 indagati perché rompono le balle ai Rom e fanno bene a indagarli, ma quando rompono le balle a tutti i cittadini con le loro minchia di manifestazioni nelle città, vi ricordate 64 indagati? 3 o 4 sì e no. Quando distruggono le auto vi ricordate, che ne so, rapine? Quando vanno sulle banche e le distruggono con i bastoni che vi ricordate rapine? No, vabbè, soltanto per dire, giusto che hanno dato un'accusa di rapina a quelli di casa Pound, vorrei semplicemente che avvenisse la stessa cosa quando questi cazzoni di sinistra distruggono e mettono a ferro e fuoco la città. Nell'uno, nell'altro comportamento è accettabile in una democrazia matura. Detto questo, mi sembra che ci sia, come posso dire, un atteggiamento un po' più lassista quando queste robe le fanno a sinistra, ma forse è soltanto un'impressione che ho io. Beh, è molto buona la notizia che nel decreto ogni tanto questo governo ne azzecca qualcuna perché le cazzate fatte nel passato ci sono e come, perché che cosa avevano fatto? Avevano preteso che nelle piccole SRL ci fosse il revisore dei conti o il sindaco, che è un costo in più, ma non solo è un costo più come notavano i giornali specializzati, siccome loro si attivano quando c'è qualche squilibrio di bilancio, nell'SRL questo può avvenire, cioè si sarebbe creato una specie di grande pasticcio, come possiamo dire, di sostenibilità di queste piccole imprese e quindi cosa ha fatto? Un emendamento leghista, in questo santo, sacrosanto, al decreto crescita, ha fatto sì che si espandesse la dimensione delle SRL prima che necessitano di questi maggiori costi e burocrazie che sono quelle del sindaco e del revisore, quindi fino a 12 milioni di euro di fatturato non ve ne è bisogno, lo trovate oggi sul Sole24, su Italia oggi. L'ultima, quando danno fuoco ai blindati, ricorda Corrado, l'altra e l'ultima cosa che vi devo raccontare è la questione che riguarda Cannes, la trovate anche sul mio sito con un bellissimo pezzo di Alessandro Gnocchi, andatevelo a leggere, perché cosa è successo? Ci sono quattro cretine di femministe, perché non le posso definire, non ci sono quattro femministe, ma quattro cretine di femministe che ce l'hanno contro la Landelon e vogliono che sia boicottata e sapete perché? Perché è amico della destra, cosa che non ha mai nascosto, perché usa dei toni macisti e perché, pur essendo a favore delle coppie gay, dei matrimoni gay, a moltissimi, immaginate, a moltissimi amici che conoscete bene gay, ha detto una volta in un'intervista che è contro l'adozione da parte delle coppie gay, dei bambini, cosa che molti gay pure pensano che sia non da fare. Allora, io mi dico e mi chiedo, ma queste qua, ma possiamo esserci ridotti a diventare la brutta copia degli Stati Uniti, ma ancora più cretini? Beh, di tutto questo ne parla e di questo, cioè di Alain Delon e del ballerino che si deve, che ballerà a Verona, il ballerino russo, che è un po' pazzarello, quello lo è davvero, altro che Alain Delon, insomma, ne parla Alessandro Gnocchi sul mio sito, quindi non vi dico oltre perché oggi sui giornali mi sembra che qualcuno ne parli, ma non bene come Alessandro Gnocchi. Direi che per oggi è tutto e vi do appuntamento, come sempre, domani con la stessa zuppa, condividete se vi piace, ciao!